Ciao a tutti, sono Alessandro e questo è il Huawei TalkBand B1, il primo orologio multimediale di Huawei che come potete vedere non è solo un orologio ma è praticamente un piccolo assistente personale che ci permette sia di rispondere direttamente da questo, sia di poter ricaricarlo direttamente con la USB integrata e di utilizzare il comodo auricolare che praticamente compone il device per rispondere direttamente alle chiamate. Come potete vedere noi riceviamo una chiamata, stacchiamo direttamente il TalkBand B1 e possiamo rispondere in un attimo, proviamo a accenderlo un secondo, se riusciamo, ovviamente essendo un prodotto da fiera potrebbe essere anche scarico, il display è proprio piccolino, le informazioni che ci può dare sono il numero di passi fatti in una giornata, le calorie bruciate e per esempio il numero di contatto che ci sta chiamando in questo momento. Vediamo se la batteria regge, batteria che dovrebbe durare all'incirca una settimana in stand by. Come potete vedere ci dà diverse informazioni, quindi tutto tramite un unico tasto, il display non è touchscreen. Questo TalkBand B1 costa 99 euro e 99 dollari e non sappiamo ancora con precisione quando arriverà sul mercato.